Allora, in sinergia con gli studenti, in cosa consiste questo progetto? Il progetto Artigianette è un progetto che ha l'ambizione di digitalizzare un cospicuo numero di imprese artigiane attraverso la realizzazione di almeno 500 siti internet effettuato da parte degli studenti degli indirizzi informatici degli istituti Cannizzaro e Archimede, è realizzato gratuitamente nell'ambito del percorso di alternanza scuola-lavoro grazie alla piattaforma e al know-how che fornirà al progetto la Flazio SRL, un'impresa ormai leader catanese a livello internazionale nel city building. Il progetto prevede diversi step, un momento formativo a scuola attraverso i tutor della Flazio SRL, un momento vero di ingresso in azienda da parte degli studenti dove reperire informazione e documentazione per la costruzione dei siti e poi un ritorno a scuola per la realizzazione degli stessi e poi la messa online grazie nuovamente all'affiancamento. E quando partirà? Il progetto partirà col nuovo anno scolastico, quindi da settembre dell'anno prossimo e credo sia un progetto molto virtuoso perché da un lato affronta lo scollamento che c'è tra mondo del lavoro e mondo della scuola, campo in cui CNA già da anni si spende favorendo altri percorsi di alternanza ed agendo come intermediario del lavoro attivando tirocini che permettono ai ragazzi di restare in azienda nel periodo estivo subito dopo il conseguimento del titolo sodastro che spesso porta alla stesura di contratti di apprendistato, quindi allunghiamo l'arco di compresenza sul modello tedesco soprattutto, ma dall'altro lato punta a digitalizzare le nostre imprese e quindi ridurre quel gap tecnologico che ci separa dai nostri competitor, soprattutto europei e internazionali, che i dati ci dicono tristemente che meno del 30% delle imprese siciliane hanno un sito internet e ancor meno lo utilizzano come strumento commerciale addizionale, quando invece i nostri studi ci dicono che le aziende che stanno online hanno crescita del fatturato tra i 5 e i 10 punti superiori rispetto a chi non ce l'ha. Perfetto.